Ma come mai fuori non funziona e qui sì? Yeah! We can! Nel corso dei controlli in strada per la prevenzione dello spaccio di stupefacenti, nella notte tra domenica e lunedì, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Cava dei Tirreni hanno tratto in arresto un 31enne ed un 26enne, entrambi pregiudicati ed originari dell'agronocerino sarnese, per i reati di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, nonché di possesso di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo. In particolare i poliziotti hanno notato in una via del centro cittadino un motociclo di colore nero con una persona a bordo, affiancarsi ad un'autovettura ferma sul margine destro della corsia di marcia. Il passeggero ha allungato un braccio verso l'esterno, come se stesse cedendo un qualcosa al conducente del motociclo. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, mentre l'autovettura con una manovra repentina si è nascosta all'interno di un vicino distributore di carburante, ma è stata raggiunta dalla polizia. All'atto del controllo, il passeggero è stato sorpreso con un involucro di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo crack, nascosto nel palmo della mano. Inoltre gli agenti hanno rinvenuto ulteriori dosi addosso al passeggero, precisamente 10 confezioni di sostanza stupefacente del tipo crack, confezionati in altrettanti involucri di cellophane di colore bianco, per un peso lordo complessivo di circa 3,10 grammi e la somma di denaro di 155 euro, suddivise in banconote di piccolo taglio. Indosso al conducente, la pattuglia della volante del commissariato di cava ha anche rinvenuto e sequestrato un coltello a seghetto con punta accuminata della lunghezza totale di 23 centimetri e di lama di 12 centimetri. Entrambi i soggetti fermati dalla polizia risultano annoverare numerosi precedenti penali e pregiudizi di polizia. In particolare, per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre il conducente risultava alla guida nonostante avesse la patente di guida revocata. I due sono stati tratti in arresto e condotti a riarresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria per la successiva udienza di convalida. Ai due giovani è stata anche elevata la sanzione amministrativa per violazione delle norme di contenimento del contagio da Covid-19 per essere stati colti fuori dalle loro abitazioni oltre le 22.